A Bruxelles, semifinali per la Coppa Davis, gli italiani Cuccelli e Rolando Del Bello affrontano in doppio i belgi Vachet e Brichon. La battaglia è molto tesa, specie dopo i risultati dei singoli nei quali Vachet ha battuto Del Bello, mentre Cuccelli ha dominato un Brichon molto in forma. I belgi lottano per quella che lo stesso Vachet ha chiamato una qualificazione sospesa a un miracolo. L'insieme del gioco rivela un certo nervosismo e discontinuità negli avversari. I nostri invece prendono cuota. Respingono di rovescio, di drive, prodigano il repertorio di una bravura ormai lungamente sperimentata. Usciranno dal campo con un 3 a 2 valorosamente conquistato. Benvenuta questa vittoria a far salire il nostro barometro sportivo.